Ben trovati a questo appuntamento speciale, un caro saluto ai nostri telespettatori qui su Italia Channel, un ospite speciale per questa nostra puntata. Molti allora dei nostri telespettatori adesso lo conoscono, forse stanno aspettando questo appuntamento, non devo dire altro per loro. Voglio invece parlare per due minuti con chi ci guarda e magari non riconoscerà, sicuramente non conoscerà me e non riconoscerà lui, cioè chi sono questi due, c'è un stoccoso blu, no? Cosa vogliono? Di cosa stanno parlando? Allora, secondo me è interessante se volete seguire questa puntata perché vi raccontiamo una storia a qualche aspetto vagamente magico, no? La nostra vita talmente povera, sempre più di stimoli, di piccoli lampi, no? Che possano allietarla e renderla più fresca. Forse qui è capitato qualcosa di speciale, è quello che noi abbiamo sentito nel costruire questa puntata e del motivo per cui questo ospite è qui con noi. È un protagonista di una soppopera tedesca che viene vista, pensate un po'. Poi in tutto il mondo, ma tutto il mondo davvero, tramite YouTube, quindi traduzioni nelle varie lingue di tanti paesi, è un attore che giocava il ruolo, faceva il ruolo di un normale ragazzo di bell'aspetto con le sue storie affettive. Poi è successo qualcosa nella sua vita, cioè nel suo ruolo di attore, il suo personaggio è diventato, gli hanno proposto e così poi è stato, è entrato in una storia d'amore con un altro uomo. E qui inizia, secondo noi, questo momento magico, come una partita a bocce, dove ogni movimento, condizione produce movimenti di altri e dove ognuno è come se facesse un salto in più rispetto al dovuto, rispetto all'atteso, rispetto a quanto si prevederebbe, a quanto è aspettato. Lui ha accettato, penso la persona più, nella mia immaginazione, più lontana da accettare, da rappresentare un ruolo di questo tipo, quindi immagino sia stata una cosa complicata, impegnativa, accettarlo e portarlo avanti con energia, questo ruolo e questo impegno. Siamo tutti professionisti, è chiaro, però poi c'è, insomma, ognuno è anche umano, ha la sua vita e deve confrontarsi o mettersi in discussione pesantemente, no? Rappresentare un ruolo di questo tipo. Lui l'ha fatto e già questa è la prima scintiva, l'ha fatto con una grande e inaspettata energia, questo gli ha portato un successo, un riconoscimento molto ampio. E pensate, altra magia, una persona, una signora, una signora che col suo laptop, due minuti al giorno, perché stiamo parlando di uno spezzone di una sopopera, due minuti al giorno, ha sottotitolato questo e ha fatto partire un meccanismo senza fine, un flusso davvero di riconoscimenti strano. Fuori da ogni legge di marketing e dell'ufficiale sistema delle comunicazioni dei media, ha sottotitolato in inglese questa sopopera che era in onda solo in Germania, non stiamo parlando di Dallas che è distribuito in tutto il mondo, no? E solo grazie a YouTube, grazie a questi sottotitoli, for free, che lei ha messo per due minuti al giorno, è diventato nel giro di tre mesi un fenomeno mondiale. E devo dire, per quanto mi riguarda, è il primo fenomeno di questa portata costruito in questo modo così trasversale. Quindi pagine sui giornali, sulle riviste di altri paesi dove non è trasmessa questa trasmissione, dove non c'è, dove ufficialmente non esiste lui, ma in America ad esempio compare sui giornali, in America è diventata tra le venti posizioni dei personaggi più secchi e amati, eccetera. Quindi è una storia che ci racconta molte altre storie, secondo me, e per generare questa serie di meccanismi, un po' di circostanze un po' magiche, a volte ci vogliono anche persone che abbiano qualcosa di speciale, e una è questo di con noi. E allora, bentrovati a questa nostra puntata, grazie per essere qui per seguirci, salutiamo naturalmente il nostro ospite. Allora, lui parlerà in tedesco, io parlerò in italiano, siamo su Italia Channel, e abbiamo deciso, perché sarà una cosa molto complicata, con tanti linguaggi, eccetera, di usare come spalmare, come la marmellata in inglese, che sarà il linguaggio unificante di questa puntata. Lo saluto, saluti e grazie per aver accettato l'invito, saluti a Tore Schovern, quindi il protagonista di Per Potere Mie. Ciao, bentrovato, welcome. Ciao, e grazie per averci qui, è stato il primo giorno in un'attività e poi anche in Italia, quindi grazie per l'invito. Per iniziare, ci chiedo, giusto per capire, da 1 a 10, quanto in questo anno, così speciale, finalmente per te, quanto stress da 1 a 10 e quanto invece happiness? Ah, quindi siamo così, va bene, ma è positivo stress, allora va bene. Ok, grazie per essere qui, sarà una puntata, spero davvero, interessante aspetta, aiutami. Ti do una penna, abbiamo molti ospiti, hai una lista, così mi aiuti a tenere il conto, perché poi altrimenti mi dimentico, faccio dei pasticci. Va bene, avremo messaggi che arrivano, che sono arrivati in questi giorni in segrette via telefonica da parte di telespettatori e fan, quindi ci saranno domande, opinioni, voci che arrivano un po' da tutto il mondo, avremo ospiti ugualmente, qualche sorpresa interessante. Vabbè, però iniziamo, insomma, iniziamo davvero dal primo punto. Mi racconti quando, aspetta che mi schiedo, mi racconti quando hai deciso che nella tua vita, insomma, doveva esserci questa svolta, quindi diventare attore, proprio il primo giorno in cui ne hai parlato. Io credo, non c'è nessun giorno in cui ho parlato. Io credo, è stata un'ottima parte da. Io credo, è stato un'ottima parte di più di parte di schiena. Io credo, è stato un'ottima parte di schiena, che stavamo molto bene. Io ho aspettato a tutti i studenti, ho avuto una situazione, che ho rilassato, che ho sentato un'ottima parte di uno. Ho fatto un corso di recitazione in Spagna, no? Quindi, attore e poi sette mesi, sette mesi in Spagna. Che esperienza è stata? E in Spagna, sì, era genialo, perché erano così tante persone, come Canada, Francia, Argentina, un po' come una freakshow. E anche se non ero un giocatore, mi avrebbe avuto molto per il mio lavoro. Quindi in Spagna era super. E allora partiamo dalla Spagna, iniziamo il nostro giro un po' attorno al mondo. Tiro sulla cornetta del telefono, perché abbiamo il primo ospite che entra nel nostro studio. Saluto tutte le persone che saranno e sono coinvolte come ospiti in questa nostra puntata. Siamo quindi America Latina, Messico, e parliamo quindi la lingua latina. Abbiamo il traduttore, quindi in YouTube vi ho detto che in tanti paesi ci sono persone che gratuitamente, però per passione, hanno deciso di condividere con gli altri utenti la storia, la storyline con Torres Schoedermann, il verbo tenere, nella loro lingua. Ad esempio per l'America Latina si chiama Meiko, questo è il nickname. Naturalmente voglio chiedere perché la decisione di portare uno show tedesco nei paesi del Sud America. Questa è una cosa che qui in America Latina non si vede. La televisione qui è molto conservatoria. Quindi eh sì, eh sì, paesi di Latino America abituati alle soppopera, alle telenovela, come dicono loro, ma non, come ci dice il nostro ospite, abituati a un soggetto e come un'impronta di questo tipo. Quale caratteristica ti piace di più nel nostro ospite, nella sua recitazione in Torres Schoedermann? Bueno, eh, francamente se non è un actor molto professionale e, la verdad, eh, io spero, a mi parecer, pues, che sia una persona sencilla, che sia una persona, eh, tratabile. E, pues, io lo che mai miro è il suo lavoro in la telenovela e che lo desempeñe a tal grado che, e, pues, che non se vede che stia attuando, sino che se vede che sta tenendo lezionare lo maggiore possibile. Io lo admiro per il suo. Bene, allora, grazie mille per questo collegamento. Un caro saluto e saluti anche da parte di Toria, naturalmente. Ciao, grazie per essere stato collegato. Beh, devo dire, molte persone, questa è una cosa che abbiamo sentito proprio in redazione preparando questa puntata, molte persone, ma in modo molto marcato, continua a ripetere che il suo modo di recitare, di affrontare il lavoro di attore manifesta una forza, un impegno, oltre a norma, cioè tutti paiono notare come ci sia un... come ci sia qualcosa di straordinario, insomma. Probabilmente il normale average level della recitazione nella fiction non è così forte, nelle opinioni di queste persone, come viene riconosciuto a lui. E allora gli chiedo, c'è questo pattern, questo modo di affrontare le cose, così di impatto, dove... te lo chiedo nella tua vita, come attore, come persona, di affrontare le cose mettendoci al 100%, ma proprio non risparmiandosi neanche un po'. Esiste nella tua vita? Ehm... Erstmal, vielen, vielen Dank, das ist natürlich für mich das größte Kompliment, das... Nur... ich weiß nicht... Ich... Ich... Ich weiß nicht was ich da besonderes mache, das ist besonderes ist. Ich hab keine Ahnung, auf jeden Fall ist es schön zu hören, das ist ja anscheinend dann funktioniert. Danke. Ok, sentiremo molte voci, quindi preparati. Adesso siamo, ad esempio, in Italia, è un po' il padrone di casa, quindi è un po' il co-padrone di casa, perché è il traduttore in YouTube. Ufficio, aspetta che adesso segna. Quindi abbiamo salutato l'ospite dal Mac, poi altrimenti mi dimenti, aiutami. Ok, adesso salutiamo invece Mauro, che è il traduttore in Italia, dentro YouTube, della sua storyline. Allora, saluti Mauro, fai un po' il padrone di casa anche tu, perché sei in Italia, siamo in Italia, parliamo italiano comunque. E allora augura tu, dai il benvenuto in Welcome to a Torre. Ho un caro, benvenuto a Torre, da parte mia e da parte di tutti i nostri fans, tra cui il fatto è che ci sono anche numerose ammiratrici. Ah, lo so. Senti, parliamoci, aspetta che vengo più vicino, parliamoci tra di noi, italiani. Ma hai visto la forza, l'impatto, come è stata costruita questa roba e anche le tematiche, chiaramente questo verbo, te ne lieve. E ti chiedo, ma siamo noi italiani, perché noi non vediamo della roba così alla nostra tv, sia noi italiani che siamo tanto indietro e i loro germani così avanti? Ma, direi che è un po' entrambe le cose. Un po' entrambe le cose. Senz'altro, in Germania c'è una maggiore personalizzazione, una maggiore tolleranza rispetto all'Italia. Secondo me questa cosa si riflette anche nei programmi televisivi, che comunque hanno meno problemi ad affrontare tematiche delicate, come possono essere quelle delle porte omosessuali. Penso che in Italia Oliver e Christian provocherebbero molte polemiche, che senz'altro avrebbero anche una certa posizione da parte dell'opinione pubblica. Secondo me, mentre in Germania non suscitano tanto scalpore, è quello che mi risulta. Secondo me è una questione proprio di cultura, di mentalità. Quindi in Italia sarebbe un rivoluzionario, se venisse a fare Christian Manni in Italia. Va bene, perché hai iniziato a fare i sottotitoli? Allora, diciamo che hai iniziato a fare gioco. Mi sono appassionato alla loro storia e mi hanno fatto provare delle emozioni talmente forti che ho potuto condividerle con altri. Ho sentito questo episodio. E quindi ho iniziato a tradurre gli episodi e poi mi sono reso conto che in realtà molti, soprattutto i più giovani, avevano difficoltà a seguire la versione con i sottotitoli in inglese, per non parlare di quella originale tedesca. E quindi mi hanno ringraziato, ho ricevuto molti apprezzamenti e questa cosa mi ha spronato a continuare, ad andare avanti con le traduzioni. La tua scena preferita qual è? Senz'altro quella in cui Christian finalmente accetta i propri sentimenti e si dichiara d'Oliver. Quindi il momento in cui diventano ufficialmente una coppia. Questa scena tra l'altro è stata messa online, ho messo un video online alcuni mesi fa e ho già superato i 10.000 contatti. Quindi vuol dire che è una scena che è stata apprezzata molto dal pubblico italiano e anche per me è una delle più belle scene d'amore mai vista in televisione. Mi sa che sono molti di più. Va bene, Mauro, allora saluti. Fai, visto che ti ho detto che sei un po' il co-padrone di casa in Italia, l'ultimo saluto a Torre. Quindi la parlo a te. Sì, volevo ancora una volta ringraziarlo. Salutarlo, fargli i complimenti perché è un bravissimo attore e ringraziarlo per averci fatto conoscere Christian Mann che è un personaggio adorabile. E poi volevo fargli una domanda. Se è possibile sapere se secondo lui l'esperienza di Christian che ha fatto il camminato sul ring, potrebbe essere un esempio per altri giovani. E se pensa che nella realtà il mondo della boxe si ha preparato sia pronta ad accettare un pugile gay che era. Oh, grazie, ma... Non lo so, adesso io lo chiedo, ma... Ok, vediamo. Quindi, nella fiction un boxer gay l'ha rappresentato lui. Nella realtà, secondo te, sarebbe possibile? Non, credo non. Also, credo, anche oggi è in questi occhi di persone ancora così verancato, questo Bild, che è stato fatto con la scuola, che ha qualcosa di fatto con la scuola. E credo, che è ancora 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 non possibile. C'è anche per tutti i nostri spiegati, anche per tutti i nostri spiegati in Italia. Ma è ancora 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 non possibile. anche se è già molto più oltre che vorrei un po' anni anche se ora mi occupo di più di più e ora mi sento più oltre ma credo che non è ancora più possibile grazie per essere con noi e saluti molto obrigado bene allora anche tu, anche a te chiedo come hai iniziato perché hai iniziato a sottotitolare questa storia io tive contatto con la serie con molti diampolazioni per Youtube e di repente deparando con la storia comecei a accompagnare la storia vi quasi una noite tutti gli episodi che avevano stato trovato lì con le leggende inglese e poi passato un tempo achei interessante cominciare a traduzire per portoghese perché credo che ci sono molte persone che per già non sapevano parlare alemone e anche percepire l'inglese quindi credo che sia interessante leggendare in portoghese e non mi passerei mai che la receptività delle persone fosse così grande grazie grazie è interessante questa cosa devo dire perché l'ho sentito l'abbiamo sentito organizzando questa puntata davvero moltissime volte ed è peculiare cioè tante persone sono veramente come dire legatissime addicted to verbo tenere lieve e ci raccontava questo nostro ospite che in una notte si è visto tutte le puntate è da un anno circa che c'è questa questo bel periodo questo momento di passione internazionale per questa storyline ti sei fatto un'idea con i feedback del perché c'è questa storia così forte che sono così legati e appassionati a questa serie che che non 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 ma non non di non è solo due ragazzi, ma solo due ragazzi, che si liebano e non d'interrò non d'interrò. E le persone, che hanno Vorurteile, pensano che ciò che si può guardare. Non d'accordo, non d'accordo, non d'accordo, non d'accordo, ma d'accordo. E non d'accordo, non d'accordo. E' un buon modo, qualcosa a fare. E' stato funzionato. E' stato assurato dell'Università. Questo è incredibile e è bello, anche da molti che non capiscono nemmeno e che avevano appena scoperto e che avevano solo le foto, quindi sembra che funziona bene, è bello. Stavo ascoltando lui, poi stavo guardando i monitor su primo piano, poi dopo vedo il mio perché cambiano, sono abbastanza agli devo dire, proprio agli, ok, per fortuna abbiamo il suo close up che salva tutti. Ok, adesso però ti chiedo, visto che ci hai raccontato il giorno in cui hai deciso di provare la strada di attore, invece il giorno in cui l'ospite inatteso è entrato nella tua vita, perché è inatteso, immagino, e quindi è entrato in un mondo particolare nella tua vita, perché ti chiedo qual è stato il giorno, proprio il primo istante in cui c'era un prima e un dopo, prima eri Christian Mann e Antonio Schollermann senza, senza il gay topic, e poi un secondo dopo, quindi ti chiedo di raccontarmi esattamente il primo giorno, il primo momento in cui ti è arrivata la notizia che c'era questa proposta e hai iniziato a pensarci, quindi è entrata questa cosa nella tua vita. Questa è stata una delle verrückte momenti, quando mi è stato detto che il mio caratterebbe così cambiare. perché era molto interessante. Exist去 Nr, un giorno in cui ero diceva a un'obiettán, «Bueno, io avevo molto沒事 con il me parlato, e non avevo parlato in quello che cosa sta. E allora diceva, «Dui, sei schluo». E io dàvoche, grazie a un'obiettano, e ho pensato a lui, e ho dire che ci ch pedals, ed è vero un cartasso e ci chiesto e mi guardato alazzo, quindi fosse una ricca di cose davanti. e ho anche una grande tocca per l'idea di spazare, perché ho l'idea di spazare la spazare, E quindi anche, mi è stato chiaro, mi è stato chiaro che un'anma ciesse, che era un'ottima verruzione. E poi fuori un'anima in un'anima, ho messo in un'anima, ho pensato a me in un'anima, ho deciso di fare o non, se fosse un'amore, perché sarebbe molto difficile, e poi ho fatto l'amore. Ma sai che c'è. Si può tanto parlare di chi potrebbe esserci, però a volte penso che poi l'unico dato di realtà, almeno su cui valuto io, è chi in quel momento c'è, chi accetta, non tanto chi ipotizza dei dubbi, perché i dubbi poi ce li abbiamo tutti, però alla fine sei tu che sei lì e che hai accettato questa cosa, questo challenge effettivamente interessante che sta appassionando mezzo mondo. Una pausa, ritorniamo tra poco. Ritorniamo in onda, ancora saluti, riprendiamo la linea, il nostro ospite qui in studio, abbiamo adesso uno dei messaggi lasciati dai fans un po' intorno al mondo, questa volta siamo in Romania, Est Europa e c'è un messaggio in segreteria, sentiamolo. Buongiorno, sono Alina di Bucarest, mi piace molto, perché è bellissima e è un attore davvero credibile. Sono curiosa, quale è l'attore preferato e quale è l'attore preferato? La rivedere. La rivedere. Ciao. Allora, da Bucarest salutiamo questa nostra, chissà, magari la nostra telespettatrice. Allora, film preferito, complimenti naturalmente, film preferito e attore preferito. Allora, grazie, 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 grazie. Allora, grazie, grazie. Grazie, 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 grazie. Wolfie, dovrebbe essere così, è un popolarissimo blog che tutti usano come punto di riferimento per avere aggiornamenti dei video e ogni tipo di informazione, molto popolare e ben realizzato. Allora, hai intuito tra i primi il potenziale internazionale di questa serie, quindi complimenti davvero e grazie per essere qui. Sì, quindi salutiamo. Nanna è il nickname, tutto è partito da lei e quindi è questa persona che ha un po' creato, ha messo le basi, insomma, ha fatto la storia della diffusione internazionale di questa mania. È una signora che abita in Germania e che mette i sottotitoli in inglese. Da lì tutto è partito. Va bene, qual è però, dimmi, cosa ti piace maggiormente nel torre e nella citazione sua? Allora, quale, ti chiedo, qual è la tua scena preferita? Perché, insomma, siamo comunque fans e quindi è una domanda imprescindibile. Ecco qua, la tua scena preferita. Ok. E qui? Siamo qui, siamo qui. Va bene. Cosa vuole, secondo te, in quale altro ruolo puoi immaginare lui in un altro carattere, un altro personaggio, un'altra situazione? Come riesci a immaginarlo? I really couldn't say, I think the possibilities for him could be endless, potentially. I see him in something like a German version of the OT, maybe. Grazie. A posto? È caduta? Ok, saluti. Grazie mille, grazie mille per essere stato qui con noi. Questa cosa si nota, effettivamente. Cioè, diceva il nostro ospite, ti ha visto nell'arco di un anno crescere, cambiare molto, diventare più complicato e affascinante come attore, ricco di mille sfaccettature. Ti chiedo allora, nella tua vita personale e come attore, questo anno ti ha portato differenze? Cioè, se pensi al torre di un anno fa e quello di oggi, cosa c'è di nuovo, diverso, di particolare? Cioè, è chiaro, nel sett sett' anno è stato molto passato. È anche così, quando l'on ha una storia di storia, dove l'on si può molto spiegare, ovviamente, l'on si può molto. Cosa per me è una grande chance, come l'on si è stata la mia, come l'on si è stata la mia, in cui l'on si è stato molto froh, perché l'on si è stato fatto. anche in me sono state trolle le cose sono state e ho visto anche in me sache in me sono state scusse e questo è un'ottima per me è una buona che io posso vedere anche come si sono state ollie e christian e sono state e che sono state e sono state e che io sono a favore. E io non posso ancora non vedere le cose, anche se io mi guardo, se io mi guardo, io mi freueo, ma è ancora molto comodo per me, per me, ma è stato molto più vero. E ho visto che siamo proprio lì, perché questo è il momento cruciale. Siamo nel bel mezzo di quella appassionante delirio, cioè di quelle scene che sono, par di capire, assolutamente le più preferite, ne vediamo ad esempio una. Questa è una delle scene preferite dei fans, ma qual è la tua scene preferita? È... ... 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 è quando quando in italo tedesco quando 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 è proprio mi piace quasi più quella tedesca di quell'italiano posso dire ok abbiamo un ospite quindi ci colleghiamo con david techner e refresh è la prima grande rivista patinata che ha dedicato molto spazio a quei loro sono in uk quindi non essendo trasmessa nel loro territorio hanno però trovato la cosa totalmente interessante da dedicare spazio e gli chiediamo proprio perché l'hanno fatto pronto well we had a lot of them prior to deciding to cover both foreign jove on the feature that we run in the current issue we had a lot of readers contact us and obviously make us aware of the storyline that was running on the soap opera and when we looked into it into more detail it was a storyline that had a great believability and and realism to it and the more we watch the show the more we became fans of the show and felt that because they had such a wide audience of people watching the program not just from in europe but in the united states and united kingdom as well it was an appropriate choice to make a big feature about both four and joe for our issue e come potreste come potreste immaginare torre in un altro è un gioco divertente interessante l'abbiamo visto in varie situazioni interpretando vari feeling quale altro ruolo potremmo immaginare per lui i think having seen his acting on the show and obviously that combined of his leading man good looks i think he's pretty open to pretty much any role he would want to go up for i'd like to see him play a better personally because the villains always have the best character pieces and they can always get the more fun in front of the camera but i think anything he chooses to put his mind to he should have no difficulty becoming successful ok grazie grazie mille allora è entrato oltre alla capacità attoriale è entrato in ballo anche il concetto che insomma è insomma che insomma piace 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 alla gente che piace cosa significa per te questa cosa comunque riconosciuta di essere bene di avere quindi questo potere chi è bello ha questo potere speciale semplicemente essendo presente di attrare attirare cos'è per te la bellezza come te la vivi ok ja was heißt schön für mich es ist natürlich komisch, ich weiß, ich weiß jetzt, dass ich nicht so extrem blöd aussehe oder so und natürlich hat man damit so ein bisschen zu kämpfen, dass man halt dann nur so irgendwie der ist, der ganz okay aussieht und spielen kann er nicht, aber ist egal, der sieht einigermaßen okay auf dem Bildschirm aus, den können wir da benutzen e così ho un po' da combattere, ma non è così, non posso cambiare. Io so che per me la bellezza si può arrivare, anche se mi conoscevo i bambini, che si può ancora così bene. Se l'interno non è bello, mi è completamente egalo, inoltre posso farlo molto bene. Va bene, ritorniamo alle scene. E adesso guardiamo una scena che ha fatto piangere, ha commosso tutto il mondo. Una cosa pazzesca, effettivamente molto toccante. La vediamo. Grazie. Ma lì? E vabbè, questa è una cosa, effettivamente, una bella prova attoriale, no? Tanta gente si è commossa in tutto il mondo. Ti chiedo, per realizzare scene così intense, come attore, come, qual è la strada per entrare dentro a questi feeling così particolari e come poi uscirne fuori una volta terminata la scena? Da c'è la scena, come attore, come attore, come attore, come attore. e che non posso capire in quanto riguarda la scuola. Non posso capire, come e quello che faccio. Se io non mi sento, non mi credo. non mi piaceva, però ok, questo è anche una cosa, ma quando mi solle situazioni vorstelle, dann wird man automatisch traurig, e tutti hanno già già visto, che qualcuno ha perduto o si vorstellt, qualcuno a perduto, e quando in una situazione ancora da sitzt, con il Krankenhaus, e questo è schrecklich, e da brauche man non bisogna più spiegare, questo è einfach so. E adesso un po' di allegria, perché mi piace come attore per come riesce a rappresentare mille sfaccettature, anche degli aspetti più allegri, vivaci e simpatici. E stiamo quindi vedendo una serie di sequenze, in cui declini in modo diverso, divertente, che è molto interessante per te orientare a vedere i epifilics. Allora ti chiedo cosa per te, la felicità. Allora ti chiedo, è sempre tutto, sì, però la felicità di spiegare, è molto più difficile da qualcosa di dramati. Allora, veramente molto felicità di spiegare, è in particolare per me, o all'interno di sempre più difficile. Per una partita, per l'interno, per l'interno di farci, è molto più difficile da qualcosa di vero più vero. ma è così. E cosa significa una cosa per me? Io sono piaciuto, quando sono piaciuto. Questo è proprio la mia cosa. Si fai iniziato a metterciare, si fai iniziare a qualche cosa. Ma io sono piaciuto, quando sono piaciuto, quando sono piaciuto, quando sono piaciuto, mangiare? C'è, adesso un'altra ospezione, che è tutta una cosa diversa. Devo dire, secondo me, proprio come attore, io penso che possa essere una bella soddisfazione intorno al mondo tanta gente che... perché c'è anche questo interesse nel seguire le scene e questa storyline. Cioè vedere quale limite in più verrà valicato quale altra... anche prova d'attore tua e degli altri personaggi del cast. Ad esempio, adesso vediamo una cosa che è una piccola scheggia di una certa violenza, certa anche pazzia. Messa, tra l'altro, questo fa riflettere sulla capacità anche del rischio attoriale. Cioè dentro una cosa del pomeriggio, insomma, una sopopera del pomeriggio, quindi una fascia per tutti, alcuni lampi di emozioni molto forti e anche apparentemente incontrollate. Io secondo me è una prova d'attore interessante. Vediamolo. Non è vero, questo è il mio problema. Sì. Perché tu hai un'esplosione. E tu puoi parlare anche tutto. Ok? Axel, chi vuole parlare? Non farlo! No! Tutto il mondo era così, che guardava che stava dicendo Ma che fa? Allora, tu riesci a metterci dentro Anche una certa dose di violenza, di aggressività Che non è facile far passare in quell'orario E che riesci a gestire in un modo intelligente Ti chiedo, come, insomma, nella vita e come attore Che cos'è la aggressività, violenza, qual è l'approccio? Allora, è stato molto divertente, so qualcosa di spiegare Se si può andare in un'estrame in un'estrame Ma ciò che succede molto presto È che, quando si vuole spiegare, Si vuole spiegare, si vuole spiegare, si vuole spiegare E si vuole spiegare, si vuole spiegare, si vuole spiegare Funzioniere, si vuole spiegare, si vuole spiegare Anstatt mir vorher große Hoffnungen zu machen Io ho wirklich credo, che c'è un po' di un'estrame che ho in un'estrame che i'avvito le nostre Ah, e in un'estrame rinno te mi dà E tu ti ti dic dicci di dà E tu mi dà mi non lo so? Weißt du, come mi dà mi sentire? È come una distanza È come un'estrame in un'estrame Ja, mi dà mi dà mi dà mi dà mi dà E mi dà mi dà mi dà Ami dà mi dà mi dà Egli mi dà mi dà Questo è molto intenso, devo dire. Coco è qui. Marie è d'Italia. Ah, davvero? Ah, sì, è vero. È vero, è vero. E Coco poi è partita. E è una scena molto intensa. Ti chiedo, rappresenti come attore un ampio campo di diverse emozioni, facendo forse anche bene il tuo lavoro, nel senso, no? Penso, il lavoro artistico e come attore sia anche ricordare a noi che facciamo una vita più normale, banale, un po' povera di emozioni, ricordarci quante possono essere differenti facciate della vita e delle emozioni umane. E ti chiedo però, tu sei anche molto giovane, davvero hai vissuto e conosci tutte le emozioni che riesci a rappresentare o come riesci a costruire un'emozione, una situazione, una sfumatura che tu non hai ancora vissuto nella tua vita, come riesci a rappresentare in questo modo così? Un'emozione forte che vince contro tutto, contro tutti i giudizi. Questa cosa non è sempre vera nella vita reale. Quindi grazie, Tore, grazie anche a you. E spero che la loro storia, la loro storia d'amore, possa proseguire molto a lungo. Ora bene, grazie a tutti, ciao. Never Ending Story. Ok, va bene, ti parlo, mandiamo una pausa. Pausa, tra poco. Una puntata speciale, ci sta piacendo, interessante, divertente, abbiamo tanti ospiti. Adesso abbiamo la prossima. Sì, devo dire, in questo gioco a rimbalzo, da un paese all'altro del mondo, siamo partiti dagli Stati Uniti, perché da lì c'è stato il nodo principale per la diffusione internazionale, e poi siamo ritornati, cioè lui, nel senso di una presenza, un interesse da parte della stampa specializzata in soppopera, proprio per il fenomeno legato alla loro storyline. Come si dice? Ferbo Teneliev, no, sono italiano, no. Ferbo Teneliev, come si dice? Ferbo Teneliev. Ferbo Teneliev. Ah no, no. No. Amore proibito. Proibito. Ecco così, ah così va bene. Allora, salutiamo la nostra ospite speciale, la ringraziamo, ma alla quale chiedo da dove è partita l'idea di fare un articolo sulla stampa specializzata statunitense proprio su questo fenomeno. Well, I actually had a lot of friends who were watching Ferbo Teneliev on the internet, and then when it came time for our magazine to do some stories on international soap operas, I kind of put the feelers out there and I asked our readers to email and say what their favorite foreign soap operas were. and they all started mentioning Ferbo Teneliev, which I had already heard of through a few friends, and I was immediately intrigued that everyone who emailed in was watching this one German soap opera. Fascinating. Eravamo tutti a leggere soap opera weekly quando lui dice, ma lo sai che sono un po' preoccupato che alla fine questo ruolo, questo caratter così forte che ha colpito così tanto l'immaginario della gente, alla fine magari diventa una gabbia. chiaramente, insomma, fa l'attore per la sua carriera, per il suo futuro, eccetera. Tutti mi riconoscono come eristi a Mann e io dove sono. E allora, qual è la sua opinione a proposito di questo? Well, I think that every actor who plays, you know, a very singular role, especially in a soap opera, is usually recognized by that role, and it's not just because it's German or because it's Thor. That happens to American soap stars. They're always afraid that they're going to be recognized on the street only as Erica Cain, or Victor Newman, and, you know, but then they managed to break out and play other roles, and, you know, I think that, you know, he's got a long career ahead of him, and, you know, Christian is only the first step. You know, as they say, any recognition is good recognition. In quale altro ruolo? Allora, così, proviamo a fare questo gioco. In quale altro ruolo possiamo, può, immaginarlo? I could see him in, like, a superhero movie, sort of, like a comic book movie playing, like, the Punisher or something like that, you know, those kinds of really strong, you know, characters that know how to take someone down, you know, because of the boxing storyline, and he did such a great job with that. I could totally picture him in an action role. Grazie, grazie mille per avere partecipato. Thank you so much. Thank you so much. And we have to work on that. We have to work on the superhero. To be a superhero. Allora, ti piacerebbe essere un superhero? Insomma, quale personaggio ti piacerebbe interpretare? Uno Spider-Man? Io ce lo vedo molto bene. Yeah, maybe Spider-Man, because... Ah, no, no, I'm in German. Yeah, auf jeden Fall dann ein, der offensichtlich nicht der Superhero ist, aber halt die Kräfte in sich hat und das so verscherchen kann. So ein bisschen wie, oh, jetzt muss ich werbung machen, aber das ist ein ganz guter Vergleich, glaube ich, wie ein Audi, der in einen sehr starken Motor hat, aber von außen ganz normal aussieht. Senti, adesso questo glielo devo chiedere, lo spero che mi siedo, va? Ma davvero, perché lui la ripete, questa cosa, quindi significa che è una cosa che la sente. E quindi questo, insomma, merita naturalmente rispetto e attenzione. Ma davvero, pensi, dopo tutte queste voci che hai sentito qui, e sono magari poche, ma dopo un anno di feedback così forti, così intensi, così precisi, ci sono forum che discutono sul tuo modo di recitare, tanti che possono immaginare, concretamente, effettivamente l'immaginazione è interessante, anch'io riesco a immaginare altri ruoli per te. Ma davvero, pensi che il grosso rischio sia di rimanere incastrato in questo personaggio di Christian Mann, ti senti così in pericolo, oppure, insomma, pensi davvero che siamo tutti, solo gentili, tutte queste persone che hanno parlato, che parlano e scrivono a te, solo gentili e direbbero la stessa cosa per un qualsiasi altro attore, giusto per essere educati al tuo posto? Ja, da certo ho d'angelo, anche se sono molto molto pronti, anche se sono molto più insieme, per se poterire molto in questo lo so, quando si mette la sopistano, perché spiele una nuova rolle, che è una cosa quella altissima, anche se fosse un schul, ma non si mette la sopice, ma è anche da un'attivato un po' diってる, perché magari spie Verto sta molto pronti e sorprendente, però credo che in questo caso si è sempre iniziata da poco. Se sti in un'ora di un tempo si non si trova molto in storia, si siano anche in un'ora di più, e credo che in questo caso si si trova così veloce. In questo caso si è iniziata da poco. Ok, io andiamo al telefono, abbiamo un altro messaggio, questa volta dagli Stati Uniti. Sentiamo. Allora, grazie, facciamo così, grazie per questa idea che mi dà l'opportunità di aprire, anche noi eravamo curiosi effettivamente, di chiedere una sua opinione. Stiamo parlando con un'audience vasta in vari paesi, eccetera, quindi con situazioni locali diverse a proposito di queste tematiche. In generale, gli chiedo, facciamo così, gli chiedo, qual è la sua idea a proposito di diritti uguali, in questo caso si parla di coppie gay. Quindi, secondo lui, secondo te, coppie gay, coppie etrosessuali devono avere un uguale trattamento di fronte alla legge, under the law? Io ho direttamente detto, che credo, che sia un'altro, se non è un'altro, se non è un'altro, se non è un'altro. Credo che c'è anche un'altro, se non è un'altro, se non è un'altro. E io penso che... Quello che ha avuto un grosso cambiamento però ha fatto entrare in generale nella sua vita, secondo noi, questa è la nostra impressione, un ospite inatteso, che lui nella sua vita non avrebbe mai, ci pare di capire, pensato di incontrare in modo così forte così tanta gente in questa circostanza così speciale, ricevendo così tanto interesse e anche supporto. E quindi l'ospite, diciamo, inatteso, l'ospite imprevisto, che da qualche mese fa parte, insomma, della sua vita, questo unexpected guest. Allora, che impressione fa? What's about? I think I just want to say thank you to everyone. Thank you for watching the show and thank you for enjoying our show. And for me, it's still... Every time I watch into the internet and see the reactions of all the people around the world, for me, it's still unbelievable. And it makes me happy that the story worked and that we helped some people in some way. And so, thank you, thank you, Nana, thank you for the subtitles and for beginning with this hype all around the world. Thank you. Ci racconta, ha fatto riferimento a questa signora che si chiama Nana, che per prima ha deciso di mettere i sottotitoli dalla versione tedesca, insomma. Ci racconta anche di come, e infatti anch'io vorrei mandare un saluto, un ringraziamento anche per il supporto, le informazioni nell'organizzare questa puntata. Come vedete, forse anche un segno dei tempi, come con un laptop e qualche minuto di tempo e una forza immaginativa, un po' di coraggio e una spinta, forse anche ideale, sono sicuro, si possa, non dico cambiare il mondo, ma, non lo so, portare un po' di felicità e cambiare un pochino la vita di tante persone. Lei, con due minuti di sottotitoli al giorno, ha messo in moto un meccanismo che era assolutamente impensabile e imprevedibile. Va bene, allora, grazie mille al nostro ospite, è stata una puntata bella, interessante, ringrazio moltissimo lui per essere stato con noi, quindi thank you. And grazie a tutti i nostri, a tutti i telespettatori, a tutte le persone che hanno collaborato con questa puntata. Il presbureau di Verbo Tenelier, Ferbo Tenelier, Steffi, ok? La ringrazio perché ci ha aiutato moltissimo per collezionare tutte le informazioni e i dettagli. Grazie a tutti voi, un caro saluto, alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.